Lunedì 3 ottobre del 2022, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi da Manuel, questa è Forza Lazio. Partiamo con la nostra sigla. Ben ritrovati, ben ritrovati a tutti voi ragazzi. Vi ricordo velocemente il nostro sito, sito internet che vedete indicato qui sopra, mentre in basso vedete tutti i nostri social dove trovarci, Facebook, Instagram, Twitter, oltre chiaramente al canale YouTube, che lo dico sempre, è il nostro canale preferenziale. Vi ricordo che sul nostro sito scriviamo, parliamo di Lazio, da tifosi, quindi è www.canaleforzalazio.com, il video in sovraimpressione ragazzi vi indica come diventare nostri followers. Mi raccomando, ve lo dico in continuazione, al costo di diventare pesante lo so e me ne scuso, però ci tengo molto a questa cosa, cerchiamo di far allargare quanto prima questa nostra community sul nostro sito www.canaleforzalazio.com, grazie agli iscritti, agli abbonati, grazie di cuore a tutti voi ragazzi, perché lentamente ma costantemente stiamo crescendo sempre più e questo chiaramente è solo ed esclusivamente merito vostro. Un grazie ed ecco la Lucandina in sovraimpressione al nostro amico sponsor, a Franco e alla sua meravigliosa famiglia, come dico sempre, perché di meglio parole migliori non potrei trovare, sto parlando del ristorante La Palazzina San Cesario, uscita appunto della Roma-Napoli, mi raccomando andate a nome nostro per avere un trattamento assolutamente riservato, anche perché lui è un grandissimo Laziale, tra l'altro ci segue sempre e lo saluto di nuovo. È un lunedì post partita, è un lunedì in cui dobbiamo, parlo al plurale anche se da questo discorso dovrei un attimino chiamarmi fuori onestamente, dobbiamo entrare nell'ordine di idee, liberarci il cervello e la mente dal fatto che questa Lazio non è forte, dal fatto che questa Lazio non è una bella squadra, dal fatto che questa Lazio non gioca un bel calcio, ma soprattutto dal fatto che questa Lazio non è la Lazio di Sarri, questa Lazio è tutt'altro, questa Lazio gioca un grandissimo calcio e diventa pericolosa, pericolosissima, quando, come ieri, si diverte, quando questa squadra in campo dà il segnale nitido di divertirsi per gli avversari sono guai ed è buio, fitto, 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 se poi è tutto questo aggiungiamo una meravigliosa cornice di pubblico dello Stadio Olimpico, ragazzi scusate ma io avendo dei problemi agli occhi devo assolutamente cambiare occhiali, vi chiedo scusa, stavo dicendo quando andiamo ad aggiungere una meravigliosa, meravigliosa cornice di pubblico a una Lazio che in campo si diverte, si viene a creare quel mix perfetto che permette alla Lazio di vincere in scioltezza, con una scioltezza disarmante, attenzione, non voglio fare parallelismi, non voglio dire nulla, non voglio fraintendere, non voglio scusatemi intendere nulla, però attenzione, perché io nella Lazio di ieri ho visto moltissimo della Lazio che vinceva le partite già alla fine del primo tempo, tre anni fa, parlo della Lazio che chiude, prima del lockdown al secondo posto dietro la Juventus, la famosa Lazio che trionfava, che da ottobre da quel pirotecnico 3-3 contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico cominciò una cavalcata clamorosa, che la portò fino al secondo posto a un punto solo dalla Juve, poi ci fu il lockdown che spezzò tutto. Ecco, attenzione perché io nella Lazio di ieri ho visto quel divertimento folle della squadra che sa che se gioca divertendosi ed esprime il suo calcio ottiene risultati clamorosi. Attenzione, la Lazio, ieri un mio amico mi scriveva questa squadra se riesce ad arrivare all'interruzione per i mondiali a novembre, a metà novembre, se riesce ad arrivare aggrappata al gruppo di testa, da gennaio in poi ci divertiamo. Ecco, focalizziamo il nostro aggiornamento di questo lunedì su questo discorso. Questo è un campionato molto particolare, molto strano, dove potrebbe esserci la grande sorpresa, l'Inter balbetta, il Milan è costante e va bene, l'Atalanta fa il suo, il Napoli è la squadra che finora sta impressionando più di tutte, ma io continuo a dire una cosa, qua ci sono solo due squadre che giocano a pallone, che hanno un'idea di gioco, che non si aggrappano solo ai singoli e queste due squadre, continuo a dirlo ancora una volta, sono Milan e Lazio. Non a caso, attenzione, Milan e Lazio appagliate al secondo posto, perché tra le tante cose c'è una cosa che si omette, che la Lazio è seconda in classifica, in coabitazione con il Milan, ok? La Lazio zitta zitta, quatta quatta, sta facendo assolutamente il suo, ed è l'altro ieri, quando abbiamo preso la bastonata in Danimarca, quando abbiamo buttato via i due punti con la Sampdoria, in cui tutto sembrava vedersi nero e quant'altro, vedete? Questa cosa me l'avete visto anni e anni farla, no? Continuerò a farla. Questo ambiente, fatto così di alti e bassi, finché non si impara a fare così, non dico così, ma così, ad avere piccole oscillazioni umorali, finché non arriva questo step di crescita di noi in generale, ambiente inteso nel suo significato più largo, non faremo mai quello step di crescita importante, ma soprattutto non riusciremo mai ad analizzare con lucidità i momenti che ci sono nell'arco di una stagione. La Lazio sta facendo il suo ottimo, un ottimo campionato, finora otto giornate di ottimo livello. La Lazio ha espresso sempre il suo calcio, la Lazio ha imposto sempre il suo gioco, la Lazio ha sofferto solamente mezz'ora di Napoli, di grandissimo Napoli, che ci ha surclassato ed ha strameritato di vincere. Per il resto la Lazio ha fatto gioco con tutti, si è imposta con tutti. Questo per arrivare a dire cosa? Che la Lazio ha una sua identità, che la Lazio è forte, ho già detto che è seconda in classifica, e che deve guardare con grande ottimismo a quello che sarà. Adesso giovedì, chiaramente saremo in diretta, già ve lo dico da adesso, giovedì ci aspetta la gara di Europa League in Austria, trasferta neanche troppo lontana, quindi va bene così, insomma capita tutto abbastanza bene. E capita bene, al contrario di quello che mi diceva Giacomino ieri sera in privato, capita bene anche la sfida con la Fiorentina. Non ci saranno disparità, perché Lazio e Fiorentina giocheranno lo stesso giorno in Coppa, chi in Europa League e chi in Conference League. Giovedì si gioca, poi domenica, scusatemi lunedì se non sbaglio, alle 20.45 a Firenze. Giacomino mi diceva, Manuel partita tosta, porca miseria, non ci voleva questa qua contro la Fiorentina, ma perché? Loro sono contenti di affrontare noi? Non credo proprio, ragazzi, non credo proprio. Quindi si va a giocare a Firenze per fare il nostro calcio, la Lazio ha tutti i numeri per vincere a Firenze, ma adesso facciamo ancora un veloce passo indietro, la Lazio di ieri contro lo Spezia ha divertito, ha entusiasmato, ha praticato un grandissimo calcio, una Lazio che si è dimostrata anche forte nella testa, perché se dopo 40 secondi sbagli un calcio di ricorre, tra l'altro il mobile ieri davvero ragazzi si vedeva lontano un miglio che non stava bene, ha giocato per mettere i minuti nelle gambe, io ribadisco che per me era meglio che entrava gli ultimi 20 minuti o mezz'ora, però vabbè questa è una mia idea personale, mentre Lazari è stato giusto farlo giocare il campo questo ha detto. Stavo dicendo, la Lazio si è dimostrata forte nella testa perché sbagliare un ricorre dopo 40 secondi poteva rappresentare una mazzata terribile, invece no, testa bassa, dopo due minuti crei già l'occasione, al dodicesimo di porti in vantaggio con un'azione meravigliosa, raddoppi dopo neanche 10 minuti, secondo tempo crei occasioni, secondo tempo fai una grande partita, Milinkovic che è un giocatore esagerato, a ogni partita Milinkovic è di una categoria superiore a tutti i 22 che scendono in campo, o meglio a tutti gli altri 21 che scendono in campo, quindi assolutamente grande Lazio, bellissima, fisicamente pimpante, brillantissima e poi c'è questa marcia in più. E qui faccio un applauso, prima ai tifosi della Lazio, secondo la società che continua ad andare incontro ai tifosi con offerte mirate, ragazzi con uno stadio così non possiamo precluderci nulla, la Lazio ha una media ormai di spettatori di circa 40.000 persone, se ne fai 40.000 con lo Spezia ne fai 40.000 a tutte le partite, a questo punto ragazzi in minimo ne fai 40.000 a tutte le partite, quindi assolutamente bene così, tutto bene, tutto bene, è un lunedì assolutamente buono, felice per noi laziali, andiamo avanti così, godiamoci questo lunedì senza montarci la testa, senza montarci la testa, guardate, questo dobbiamo fare, no questo, ma questo dobbiamo fare.